Eccoci di nuovo con voi amici, vi auguro una buona giornata, questa mattina cominciamo subito con la rassegna stampa, vediamo come sempre i giornali, il resto è il Carlino e il Corriere Adriatico, oggi si festeggia poi una santa particolare, la vediamo subito nella illustrazione è Santa Barbara, Santa Barbara è un nome che ancora si usa molto oggi, è un nome molto diffuso tra le giovani, insomma è un nome che dà un senso di antichità ma anche di modernità, vediamo qualche notizia su Santa Barbara, Santa Barbara nacque a Nicomedia, l'odierna Ismit in Turchia, suo padre era un feroce persecutore dei cristiani, lei stessa, fattasi cristiana, fu perseguitata e imprigionata dal padre, fu rinchiusa nella torre del suo palazzo, riuscì a fuggire ma fu di nuovo catturata e il padre stesso snaturato la denunciò, addirittura lui stesso si offrì per tagliarle la testa e così fece la giustizio, si dice però che poco dopo all'esecuzione un fulmine cadde dal cielo e uccise il genitore, Barbara per questo è invocata contro il pericolo dei fulmini, è protettrice dei vigili del fuoco e dei militari della marina, oltre che dagli artiglieri, Santa Barbara è indicato anche come il nome del deposito di munizioni delle navi, insomma Barbara è una santa molto molto venerata e a Fano, credo anche in altre località, oggi alle 11 si celebrerà una messa particolare con la partecipazione del Vescovo Monsignor Armando Trasarti. Diamo un'occhiata ora alle previsioni atmosferiche, vediamo che migliorano, migliorano sì, ci sarà bel tempo oggi su buona parte della regione, vediamo che le nuvolette si stanno schiarendo, avvio di sabato soleggiato sulle marche dal pomeriggio sera, nubi in aumento però con primi fenomeni in Appennino, c'è una temperatura piuttosto fredda all'inizio della giornata, le temperature infatti uscillano tra i 4 e i 12 gradi. Apriamo il Corriere Adriatico, lo vediamo all'inizio sulla prima pagina, si parla subito dell'ospedale, c'è un bando per i medici, cominciamo con una buona notizia perché poi sulla sanità ne avremo non molto belle, ospedale bando per i medici, è la risposta di Marche Nord alle carenze del pronto soccorso, sollevate poi dall'ira del primario Gnudi che è ancora nel mirino dei Novax, un Natale da vaccinati e la garanzia per gli abbracci tra nonni e nipoti, gli esperti se no i tamponi. La fotonotizia invece è dedicata alla ciclovia adriatica, tutte le marche saranno percorribili in bicicletta lungo la direttiva della costa, infatti il Ministero finanzia l'opera con 27,5 milioni, 230 chilometri da Gabice a San Benedetto del Tronto. Le tre notizie a centropagina, si riferiscono due a Pesaro e una a Fano, vediamo quelle di Pesaro, i genitori dei pestati, così vengono definiti, grazie alla polizia per il sostegno dato. Super depuratore ambiente, la città torna in regola e per quanto riguarda Fano vediamo che va a processo la banda dello spray verso il processo bis, si parla della lanterna azzurra di Corinaldo, Fano ha avuto una drammatica vittima in quel fatto che è veramente addestato la sensazione di tutta la regione, ma direi anche di tutta la nazione. Via Crollata ha condannato Tiviroli con due funzionari, si tratta di quanto è accaduto a Dorciano, una frana che ha interrotto la viabilità per tanto tempo il 2 ottobre del 2015. Apriamo dunque il giornale e vediamo subito le notizie sulla sanità. Nonni e nipoti, occhio al Natale, tutti vaccinati o col tampone, altrimenti abbracci a rischio. Gli esperti marchigiani dicono testa sulle spalle, chi non ha fatto le dosi provveda, resta utile il distanziamento, consigliato il test per chi è ancora senza profilassi. E poi abbiamo le vaccinazioni dei più piccoli, quelli che hanno un'età che varia dai 5 agli 11 anni. Ci saranno effetti collaterali, dosi e studi clinici. La profilassi sui più piccoli varia con un terzo di siero Pfizer. Il Covid può causare una malattia infiammatoria. Insomma bisogna stare attenti. Comunque gli esperti dicono che nei bambini dai 5 agli 11 anni è possibile utilizzare un dosaggio inferiore rispetto a quello utilizzato nelle persone più grandi. Attualmente il vaccino Pfizer è l'unico disponibile per la vaccinazione dei bambini di questa fascia di età. Comunque aumentano i ricoverati. I più gravi restano 25 in tutte le Marche. Ieri altri 476 positivi e due vittime del virus. Una è un 94enne di Pesaro, l'altra è un 80enne di Fano, entrambi con patologie pregresse aggravate dall'infezione del Covid. Vediamo ancora questa grande arteria, questa grande infrastruttura che percorrerà tutta la regione Marche. Lo vediamo qui in questa tabella. Tutte le Marche in bicicletta percorribili dal 2026. In arrivo 27,5 milioni di euro. Il Ministero ha quintuplicato i fondi dopo che si è recato al Ministero l'assessore regionale Balbelli. Da Gabice a San Benedetto in bici con un tracciato sicuro e senza ostacoli. Vediamo qui i tratti che vengono elencati dalla tabella. Da Gabice a Monte Marciano 11,8 milioni. Da Monte Marciano a Camerano altri 8,5. Da Camerano a Porto Recanati questo piccolo tratto 1,5 milioni. Ancora da Porto Recanati a Porto Sant'Elpidio 5,7. E invece è già finanziato il tratto da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto dal Tronto per 3,3 milioni di euro. Una infrastruttura strettamente necessaria ma con grandi potenzialità non solo dal punto di vista della sicurezza perché altrimenti i coloro che vanno in bici devono percorrere la strada dove passano le auto ma anche una grande opportunità dal punto di vista turistico perché il cicloturismo è uno dei settori più in ripresa nel mondo appunto dell'economia. Tra filiere e innovazioni l'artigianato in ripresa e spinge 43 mila imprese. Dal primo semestre un graduale miglioramento. Moda e ristorazione stentano ancora. Le attività strutturate sono quelle che riescono ad agganciare le opportunità di rilancio. E in questo articolo il Corriere Adriatico fa un sunto dei settori maggiormente in sviluppo e quelli invece che languano a fine anno. Parole crude, un mio sbaglio ma non rinnego il contenuto. È una dichiarazione di Umberto Gnudi, il primario del pronto soccorso di Marche Nord, al centro in questo momento di una polemica che si sta ampliando e si stava vaccizzando sempre di più. Non rinnego il contenuto ma devo qualificarlo, ha detto. Le mie invettive non erano per il non vaccinato, to cure, conosco per esperienza i mille distingo, ma per chi per ignoranza o peggio ancora per tornacconto diffonde informazioni false. Questo è quanto ha dichiarato il medico. Ma lui stesso è oggetto di diversi esposti e lo vediamo in questo articolo di spalla del Corriere Adriatico. Le parole forti del primario del pronto soccorso Umberto Gnudi contro i Novax hanno avuto un eco nazionale e a Pesaro scatta l'esposto alla procura. Un gruppo di cittadini Novax e di libera scelta hanno contattato l'avvocatessa Pia Perricci per presentare una querela nei confronti del primario. Mi hanno contattato in diversi, ha spiegato l'avvocatessa, per spolgere denuncia. Altri sono intenzionati a farlo. Tali persone si sentono diffamate perché per svariati motivi non si sono vaccinate, tra le quali anche per motivi patologici, ovvero per malattia. Una questione che continuerà a tenere banco sui giornali, comunque come un po' tutti i distinguo che ci sono tra i Novax e coloro invece che sostengono l'utilità delle vaccinazioni. Muraglia stop agli open day, solo prenotati. Ormai non si può più utilizzare la formula di vaccinare contemporaneamente i non prenotati e i prenotati. C'è tanta confusione, così si è formata in questi giorni e quindi ieri la decisione. Ora per essere vaccinati occorre per forza la prenotazione. Troppa ressa per vaccinarsi. Marche Nord emette un freno. Da lunedì prossimo accesso al centro, solo dietro appuntamento. Ed ora in questa pagina si parla della voragine di Orciano, la strada crollata. I giudici hanno definito che fu un disastro colposo, quindi sono stati condannati Tiviroli, che è l'amministratore delegato di Marche Multiservizi e due tecnici. Accolta la tesi del PM, la frana causata dalle perdite della condotta idrica. Fu mancata prevenzione, secondo il giudice. Qui vediamo la fotografia dell'amministratore delegato Mauro Tiviroli e qua la voragine che proibì l'accesso a questa strada per diversi anni e creò molti disagi a tutto il Paese. Borgeria investimento da 25 milioni al servizio delle famiglie e delle attività. Con il nuovo impianto di depurazione di Marche Multiservizi si è chiusa la procedura di infrazione e tutte le case di Pesaro ora sono servite dal nuovo depuratore. Questo costituisce un passo avanti ambientale per il fiume Foglia e il mare Adriatico. Lo ha detto Tiviroli nella giornata di ieri quando insieme al sindaco Matteo Ricci ha dato un impulso, ha compiuto un passo avanti alla soluzione di questo problema. Una soluzione che potrebbe incidere anche per quanto riguarda il ricevimento della bandiera blu dato che la situazione ambientale senza questa nuova infrastruttura non era risolvibile e quindi non poteva ricevere dalla FEE questo emblema di carattere ambientale molto molto apprezzato dai turisti. Giriamo ancora la pagina e abbiamo una notizia di cronaca. C'è un cittadino che stava smerciando droga, almeno così dicono gli inquirenti, si tratta di un sessantenne che operava, lui dice, nel settore della canapa light. In realtà la sua attività non viene considerata regolare dagli inquirenti che hanno veramente trovato molta canapa e anche ascis all'interno della sua abitazione. Qui vedete un po' le cose che sono state sequestrate e quindi è stato arrestato. La giustificazione fornita ai poliziotti non gli ha impedito appunto l'arresto. Il pestaggio ha sconvolto le nostre vite. Parlano così i genitori di Simone Pasquino e Luigi Lupini, due ragazzi che furono malmenati, furono aggrediti all'esterno della Rocca Malatestiana qualche mese fa a Fano. Hanno scritto una lettera al questore. Uno degli aggressori hanno detto ci ha inviato una lettera di scuse assolutamente pretestuosa. Hanno così considerato questa richiesta di scuse del ragazzo che ha aggredito appunto i due giovani che vediamo qui ritratti in una fotografia. Siamo a Vallefoglia, si parla del Natale, il Natale più bello e sicuro. Ci aspettano tante sorprese. Il presidente provinciale delle Proloco, Bartolcetti, lancia un weekend ricco di appuntamenti. Si tratta del Natale che non ti aspetti, un mosaico di eventi e di opportunità che animeranno borghi e castelli di tutto il pesarese fino al 6 gennaio. Tutte le manifestazioni entrano nel vivo in questo weekend, soprattutto a partire dall'8 dicembre. Oltre a Candelara, Fano, Monbaroccio, Gradara e Frontone, Bartolcetti ha menzionato anche altri comuni come Fossombrone, Cagli, Pergola, Ferminiano, Fratterosa, Vallefoglia, Urciano, Sant'Angelo in Lizzola. Insomma ci sono tanti tanti paesi che hanno tante manifestazioni e quindi non c'è che l'imbarazzo per la scelta per trascorrere magari un weekend e fare un'escursione nell'entroterra e immergersi nell'atmosfera di Natale che è un po' diversa tra un paese e l'altro. Quindi occorre provarle tutte. A Urbino c'è stato un convegno con l'ISMEA che è l'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Carloni. C'era il sindaco Gambini che ha promosso nuovi strumenti finanziari e Carloni invece ha dichiarato di aver tolto il limite all'abbattimento dei cinghiali, un problema che stava così rovinando un po' tutte le culture del settore agricolo. E siamo sulla pagina di Fano. Ieri l'Associazione Albergatori ha reso noto l'esito di un questionario nei clienti degli alberghi, in modo particolare coloro che hanno partecipato al progetto di Tineris, ovvero le escursioni verso l'entroterra. Ci sono stati commenti molto positivi. Il maggiore gradimento è stato espresso nei confronti del Pincio, della passeggiata dell'Isippo, della zona del Porto, della Darsena Borghese. E poi il 30% dei turisti ha dichiarato di conoscere Fano per la sua posizione strategica. Il 25% ha scelto la città grazie al passaparola. Il 15% è ormai radicato in città, tanto da aver acquistato un appartamento. Il 15% si è affidato ai social. Il 10% è venuto a conoscenza della località, grazie agli eventi sportivi, che sono una buona risorsa per il turismo. Il 5% si è fermato passando, perché ha visto la città bella e si è fermata così, casualmente. E tra gli aspetti positivi sono stati rilevati alcuni brand della città, come la Moretta. La Moretta che poi ha dato anche l'occasione di elaborare dei risultati della Moretta. Con la Moretta, per esempio, si è fatto un profumo e poi si sono fatti dei biscotti. Insomma, il gusto, il sapore della Moretta è stato replicato in tanti altri modi. Un articolo interessante, appunto, da leggere. C'è il processo bis per il gruppo dello spray, la procura in appello per il reato di banda. Si parla della lanterna azzurra di Corinaldo. Questi sei sono stati condannati in primo grado a 68 anni di carcere. La pena è complessiva. La prima udienza si svolge il 13 gennaio. A un anno e mezzo di distanza dalla sentenza di condanna di primo grado, i sei della strage della lanterna azzurra dovranno tornare a sedersi in tribunale. Questa udienza è fissata per il 13 gennaio del 2022. Si tratta della Corte di Appello, a cui vengono chiamati e a cui devono rispondere i rapinatori della bassa modenese, accusati ad aver spruzzato all'interno delle locali di Corinaldo lo spray al peperoncino che poi ha provocato quel parapiglia con le vittime che ci sono state. Sei morti e oltre 200 feriti. Interquartieri è pronto il bando per il progetto. Lunedì la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale stanziati 1,4 milioni. La notizia è stata data ieri dall'assessore all'urbanistica e vice sindaco di Fano, Cristian Fanesi, il quale va avanti con questa arteria. Ormai sta per finire il percorso burocratico. A Fossombrone è stata acquisita l'eredità di Ligi, lo scultore, ora il museo di 80 opere. Voto unanime del Consiglio Comunale dopo la donazione del 2019 della famiglia di questo artista. Poi abbiamo una dichiarazione a fondo pagina di un operatore che opera nel sistema del gioco d'azzardo. Con le slot machine lo Stato incassa risorse. Ha messo in evidenza. Si tratta dell'esercente Maccarone, che ringrazia la Giunta regionale per la proroga ottenuta fino a luglio del 2023. Ci sono disposizioni stringenti nel nuovo regolamento regionale che dovrebbe limitare l'accesso alle case da gioco, però questo per consentire gli operatori di mettere in regola tutto l'apparato è stato prorogato per quanto riguarda l'entrata in vigore a luglio del 2023 e questo operatore ringrazia. Bene, così abbiamo completato il Corriere Adriatico. Vediamo un attimo il resto del Carlino. Il resto del Carlino apre con le dichiarazioni sempre dignundi, il primario del pronto soccorso, mentre la fotonotizia è dedicata alle vaccinazioni che ora procedono molto molto spedite. Da ieri il ristò attivo a 12 ore di Pesaro, i prenotati erano 800, oggi apre Gradara. Le altre notizie richiamate dalla prima pagina del Carlino, il depuratore di borgheria è fatto, sanata l'infrazione dell'Europa e a Fano adesso la moretta diventa anche un profumo. Pronto soccorso, servono rinforzi, cerchiamo medici flessibili e il nuovo bando emesso da Marche Nord e per quanto riguarda invece l'allarme di tutta la regione, zona gialla sotto l'albero, insomma. Bisogna stare attenti, il rischio c'è ed ecco i numeri. Ancora a fondo pagina viene richiamata la condanna per la frana di Orciano nei confronti dell'amministratore di Marche Multiservizi Tiviroli e a Urbino l'abbattimento dei cinghiali dichiarato dall'assessore regionale Carloni. Vaccinazioni per 12 ore al giorno e il ristofa al pieno con 800 dosi. Da ieri è scattato a Pesaro la nuova organizzazione per far fronte al consistente aumento delle richieste. Tensioni e polemiche a Urbino. Oggi apre anche l'hub di Gradara, così si cerca di accelerare. E qui vediamo due momenti, anzi tre momenti, delle vaccinazioni. Pronto soccorso, disperata ricerca dei rinforzi. Dopo quattro bandi andati deserti, l'azienda Marchenor ne fa un quinto per reclutare personale qualificato e flessibile soprattutto. E poi abbiamo anche un intervento della consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, che chiede chiarezza sul fabbisogno di personale e sulle azioni da intraprendere per risolvere i problemi al pronto soccorso di Pesaro. Per questo ha invitato il Presidente Acquaroli e l'assessore Filippo Saltamartini a riferire al Consiglio regionale riguardo al servizio di emergenza e urgenza dell'azienda ospedale in Marchenor e come si sta procedendo per risolvere la situazione. E abbiamo visto si cerca di mettere un nuovo bando. Terapie intensive occupate al 10%. Il 74% dei pazienti sono Novax, lo evidenzia sempre il Carlino, e poi il giornale parla della didattica a distanza nelle scuole. Con un solo positivo entra in vigore questo provvedimento. È una stretta in provincia. Il virus corre troppo e occorre correre ai rimedi. L'Azur da sola non riesce a effettuare il tracciamento dei contagi. E quindi ecco le nuove regole. Cioè, quali sono le nuove regole? Con un solo positivo in aula per l'intera classe scatta la quarantena e di conseguenza si torna in didattica a distanza. Fino a quando? Almeno per sette giorni per gli allunni vaccinati, a cui per rientrare basterà un antigenico o un molecolare negativo. Saranno invece almeno dieci i giorni di quarantena per i compagni del positivo che non sono vaccinati, insomma, qualche giorno in più. Depuratori, i conti con l'Europa sono chiusi. Inaugurato quello di Borgeria. Tiviroli dice stop al procedimento di infrazione comunitaria che è stato aperto nel 2009. Iniziamo da una depurazione dell'80%, ora siamo arrivati al 98%, ha dichiarato l'amministratore. E in base a questo progresso, a questo sviluppo, il sindaco Ricci vede molto vicina la bandiera blu per la Baia che fino adesso ne era rimasta priva. Giriamo ancora, vediamo la pagina di Fano. Vediamo che l'articolo di apertura è dedicato alla variante di Gimarra. si parte lunedì con il bando. La progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera ammonta a 1.295.000 euro. Non c'è una scelta definitiva al momento del percorso della nuova strada. E l'opera viene finanziata con quei famosi 20 milioni che la Regione Marche ha promesso di dare al Comune di Fano per risolvere un po' la situazione dell'ospedale. Vi ricordate l'ospedale unico di Muraglia. Ma ora in realtà la necessità di questa infrastruttura prescinde dalla posizione dell'ospedale, anche se le decisioni regionali ormai puntano soprattutto su Muraglia. e quindi abbiamo l'opportunità di avere la deviazione del traffico pesante che percorre il centro di Fano fuori appunto dell'abitato e abbiamo la possibilità di raggiungere meglio l'ospedale. Ma sappiamo benissimo che contro questa realizzazione c'è un vasto fronte aperto dagli ambientalisti. Ancora sul resto del Carlino, Moretta, risorsa preziosa, diventa profumo e biscotti. Gli ingredienti della bevanda costituiscono l'essenza di due nuovi prodotti. Sono stati presentati ieri dalla Confcommercio. È un altro punto di forza per la città. Presto la sede del distretto sanitario a Pergola aprirà entro il 15 dicembre. Ieri, nella nuova location, il sopralluogo degli assessori Saltamartini e Baldelli. Li vediamo qui, Saltamartini e Baldelli, di fronte a questo nuovo locale del distretto che sarà funzionale a partire dal 15 dicembre. Ancora tre condanne per la voragine di Orciano ritenuti responsabili di disastro colposo l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli e due suoi funzionari. Di questo abbiamo già riferito. Ci è rimasto solo un po' di tempo a poco poco per parlare di sport. Vediamo la Vis, la Vis che si prepara a sostenere l'incontro contro l'Olbia. Inizia l'ultimo step decisivo. Banchini, quattro partite molto importanti per la Vis da qui a Natale. Per il Fano si alza l'asticella. Oggi è una partita importante. L'anticipo con la Trastevere di Roma, la capolista. Intanto, oltre a Esposito, in partenza anche Russo. Gigli è andato alla folghere caratese. E vediamo se troviamo anche la notizia per quanto riguarda la VL. Sì, eccola qua. VL sarà una battaglia. Cioppi stimola la squadra per la gara contro Varese. Ed è questa l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento come sempre a domani alle ore 7. Buona giornata. Grazie a tutti.